Siamo ormai E' addirittura d'arrivo, possiamo dire che già pregustiamo il sapore della festa di San Pio da Pietrelcina. Bentrovati, buon pomeriggio cari amici di Padre Pio TV, 16 e 30 e 50 secondi. Siamo in diretta come ogni giorno per prepararci alla ormai prossima, come dicevo, festa di San Pio da Pietrelcina. In questo pomeriggio sono davvero contento di avere nei nostri studi tre che saranno dei protagonisti di questa festa, ma che sono anche collegati direttamente alla vita del nostro santuario. Parto subito da Fra Maurizio Polacentino, il ministro provinciale della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio. Pace e bene, Fra Maurizio, bentrovato. Fra Ezio Barbara, che vi ho già presentato il 14 scorso, una settimana fa, perché sarà mio compagno di viaggio nel programma che dedicheremo agli santi, alle cause di canonizzazione, che oggi è qui con noi e parteciperà, come dicevo, alla festa di San Pio. Bentrovato. Ciao, pace e bene a te Leonardo e a voi tutti. E infine Alessio Crisetti, rappresentante del servizio liturgico Francesco Buenza, che anima la liturgia del nostro santuario ormai da 25 anni. Ciao Alessio, bentrovato. Buon pomeriggio a te Leonardo e a tutti i telespettatori. Tra l'altro voglio fare gli auguri a servizio liturgico Francesco Buenza, perché quest'anno ricorrono i 25 anni della fondazione, 14 settembre 1996. Dunque, nozze d'argento per questo gruppo che davvero ci aiuta a pregare meglio nella liturgia. Tra pochi istanti ci collegheremo con l'ufficio accoglienza pellegrinaggi del santuario di San Pio, con Maria Antonia Di Maggio, che sarà in compagnia di altri due ospiti particolari. Ma in questo pomeriggio, come stiamo facendo ormai da una settimana a questa parte, vogliamo aggiungere un ulteriore tassello a quello che sarà il palinzesto della prossima stagione di Padre Pio TV, perché apriremo una finestra ampia sul santuario, sulle attività, sulla vita del convento di Padre Pio. Sarà Fra Francesco Di Leo il protagonista principale di questo appuntamento, ma noi oggi pomeriggio ci vogliamo concentrare su ciò che accadrà nei prossimi giorni e fare anche un breve passo indietro, rivivendo quelli che sono stati i momenti salienti che questo santuario ha vissuto nel difficile anno che abbiamo appena trascorso e che purtroppo possiamo dire stiamo ancora trascorrendo. Ci sono anche motivi di gioia però e vorrei partire da Fra Maurizio, perché in questo 2021, siamo al 26 giugno con la data, è stato inaugurato il ventennale della canonizzazione di Padre Pio che cadrà il prossimo 16 giugno 2022, questo ciclo di celebrazioni, di appuntamenti e di eventi che vi vedrà direttamente coinvolti. Sì, ecco, come hai detto, insomma, nonostante le fatiche e le difficoltà di questo tempo, per fortuna c'è la storia che con i suoi eventi, i suoi anniversari, ci ricorda anche le cose belle e le cose importanti. E quanto questo ventennale, pur nel contesto particolare che stiamo vivendo, è un'occasione di gioia, un'occasione di riflessione, un'occasione di vita per il nostro santuario. Abbiamo iniziato, ecco, e durante l'anno ci saranno diversi momenti che ricorderanno quell'evento. Fra Ezio, in questo anno penso che davvero tu possa sentirti pieno di grazia perché riceverai l'ordinazione diaconale il prossimo 30 di settembre a Bari, nella Basilica di Santa Fara, tanto cara a noi per essere lo studentato dei Frati Minori Cappuccini del Sud Italia. E poi ovviamente ti preparerai all'ordinazione. Certo, sicuramente. Vivrò questo momento di passaggio dalla Fraternità di Bari alla Fraternità di Morcone con questo momento culminante che sarà appunto l'ordinazione diaconale con un altro fratello della provincia di Napoli, Fra Vittorio. Quindi questo passaggio segnerà chiaramente un cambiamento nella nostra vita. Alessio, invece, vengo da te per quest'ultimo giro di battute e poi insieme ascolteremo un breve stralcio dell'omelia del Cardinale Semeraro per chiederti, ecco, il servizio liturgico ovviamente anche in questo anno è stato bloccato nelle sue attività, logico, visto che le celebrazioni da poco tempo sono state riaperte al popolo. Ecco, voi come invece avete vissuto e vi siete preparati poi alla cosiddetta riapertura, diciamo così? Con molta gioia abbiamo vissuto questa riapertura, sono stati dei mesi molto difficili perché non ci potevamo vedere nei nostri incontri settimanali e non ma comunque il nostro gruppo è andato avanti, ci sono anche dei nuovi membri e fortunatamente ora possiamo animare questa novena con gioia e partecipare alla festa di Padre Pio. E allora, come promesso, in attesa che Maria Antonia si colleghi con noi dall'Ufficio Accoglienza Pellegrini, vogliamo ascoltare un brevissimo stralcio dell'omelia che il Cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, ha dettato lo scorso 26 giugno in occasione dell'apertura delle celebrazioni del ventennale della canonizzazione di Padre Pio. Ascoltiamo insieme. Pochi giorni prima di morire, il 12 settembre 1968, egli scrisse una lettera a Paolo VI per manifestargli l'amore di un semplice figlio della Chiesa, semplice figlio della Chiesa, non un giudice della Chiesa, non un arbitro della Chiesa, non un programmatore della Chiesa, un semplice figlio della Chiesa. Due mesi prima Paolo VI aveva pubblicato l'enciclica Umane Vite e questo gli aveva provocato dure critiche. Padre Pio invece lo ringraziava per la parola chiara e decisa scriveva così del suo Magistero. E sarà proprio Paolo VI, ora anche egli elevato all'onore degli altari, a lasciarci uno degli elogi più belli di Padre Pio. E lo fece quasi riecheggiando Gesù che riguardo al Battista Domandava alle folle, che cosa siete andati a vedere nel deserto? Similmente disse Paolo VI, guardate che fama ha avuto, parlava di Padre Pio, guardate che fama ha avuto, ma perché? Forse perché era un filosofo, forse perché era un sapiente, forse perché aveva mezzi a sua disposizione, no, no, ma perché diceva la messa umilmente, confessava dal mattino alla sera ed era, difficile a dire, rappresentante di nostro Signore, stampato delle sue stimmate. E' una parola che oggi ricorre più forte che negli altri giorni, potremmo dire, perché il 20 settembre del 1918, Padre Pio 103 anni fa riceveva nel coro della Chiesa Antica le stimmate che poi portò per 50 anni fino alla notte del 22 settembre del 1968. Vorrei fare subito una battuta con Fra Maurizio tra qualche istante, perché ora mi collego con Maria Antonia Di Maggio, che è nell'ufficio accoglienza Pellegrini del santuario di Padre Pio, in compagnia di Fra Francesco Di Leo, che vedo già inquadrato nei miei monitor di servizio. Ciao Maria Antonia, pace bene Fra Francesco. Buon pomeriggio a te Leonardo, a tutti i tuoi ospiti in studio, come hai anticipato, siamo in compagnia di Fra Francesco Di Leo, rettore del santuario di San Pio, all'esterno dell'ufficio Pellegrinaggi, all'ingresso del... Mi segnalano problemi di audio? Mi segnalano problemi di audio. Io vado avanti sperando che riusciate comunque a sentirci e dicevamo che siamo qui appunto collegati in diretta col rettore Fra Francesco Di Leo per un saluto, ci fa piacere, l'abbiamo come dire rubato ai suoi mille impegni, soprattutto in un momento come questo, la quasi vigilia della veglia di preghiera. Ben trovato Fra Francesco. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Davvero siamo felici che anche quest'anno riusciamo in qualche modo a vivere insieme questo appuntamento che è uno degli appuntamenti pastorali più importanti dell'anno. Anche quest'anno la grande veglia si svolgerà nella chiesa, all'interno della chiesa, nel rispetto delle norme che ancora ci vengono richieste per questa emergenza sanitaria ancora in atto. Ma riusciremo a vivere lo stesso tutti i momenti programmati e preparati e che hanno come sfondo, diciamo così, come punto di riferimento la lettera enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti. Quindi in qualche modo ogni momento avrà un aggancio con questo documento importante del Magistero della Chiesa. E poi, ecco, avremo la possibilità in futuro di vederci insieme con Paola per raccontarci un po' la vita del santuario, quello che accadrà nei prossimi mesi qui a San Giovanni Rotondo presso i luoghi di San Pio. Questa è un'anticipazione appunto per la nuova stagione televisiva. Fra Francesco e insieme appunto alla collega Palarusso saranno tra i volti i protagonisti della nuova stagione per raccontare proprio le tante attività, le tante realtà che ruotano intorno al santuario. So che tu devi scappare fra Francesco ma un'ultima nota, penso che tu possa condividerlo, ovvero quest'anno la veglia ancora una volta all'interno della Chiesa, però con forse uno spirito diverso, con un ottimismo in più perché in questi mesi abbiamo davvero visto un grande ritorno di tanti pellegrini, di tanti fedeli di San Pio in questi luoghi. Certo, vivremo questo appuntamento, questa veglia con il cuore pieno di speranza. La gente che sta arrivando in questi giorni è proprio il segno di una ripresa e allora vogliamo davvero sperare che questo sia l'inizio di una normalità che tanto aspettiamo. Ce l'auguriamo davvero tutti. Ringraziamo Fra Francesco e Di Leo per essere stato in nostra compagnia in questo primo collegamento. Noi, Leonardo, torneremo a collegarci sempre qui dall'ufficio Pellegrinaggi. Fra poco, per il momento, restituisco a te la linea ancora un saluto agli ospiti in studio. Grazie, grazie Maria Antonia. Dunque, Fra Francesco, ti aspettiamo qui nei nostri studi nelle prossime settimane. Io ora mi fermo per qualche istante per una breve sosta pubblicità e poi ritorneremo ancora qui in diretta con i nostri ospiti per prepararci alla festa di San Pio da Pietrelcina. Restate con noi. La nostra diretta, dunque, abbiamo messo già tanta carne sul fuoco perché abbiamo parlato del ventennale della canonizzazione di Padre Pio. Abbiamo ascoltato anche alcune riflessioni da parte di Fra Francesco Di Leo, ma io vorrei ritornare dal Ministro Provinciale, da Fra Maurizio, perché oggi, giornata in cui si ricordano i 103 anni della stigmatizzazione del nostro Santo, anche a partire dalle parole del Cardinale Semeraro, ecco, possiamo dire che ci introduciamo nel cuore della festa. Possiamo dire che già oggi, ecco, si respira questo clima di festa. Sì, in effetti veniamo ben preparati alla festa di San Pio, sia appunto per questa celebrazione di oggi che appunto soprattutto nella vita della nostra provincia è una data importante, tant'è che ormai è diventata tradizione che in questa occasione, durante la celebrazione della commemorazione delle stimate di San Pio, anche i religiosi della nostra provincia, che nell'anno ricordano l'anniversario della loro professione, rinnovano appunto i loro voti. Quindi è una festa che sicuramente ci introduce appieno nella festa di San Pio, una celebrazione che ci introduce appieno nella festa di San Pio. Le stimate, come sappiamo, sono quel dono, quel mistero che ci fanno, ecco, riassumono in un'immagine quello che San Pio è stato per la Chiesa e per tutti quanti noi. Ma a questo momento siamo preparati anche dal ricordo delle stimate di San Francesco, qualche giorno prima, e dalla festa della dolorata il 15 settembre. Quindi effettivamente c'è come un crescendo, un prosieguo nelle celebrazioni liturgiche che ci riporta al mistero della croce, al mistero di Cristo che ha dato la vita per noi. Sì, in effetti c'è questo climax, chiamiamolo così, molto particolare, perché si comincia con l'esaltazione della croce, ecco noi tante volte non facciamo troppo caso al calendario, ma non ricordo qualche predicatore qualche anno fa disse che proprio questa coincidenza temporale è provvidenziale, e noi l'accogliamo davvero con tanto tanto favore. Io tornerei a collegarmi ora con Maria Antonia Di Maggio dell'ufficio Accoglienza Pellegrini, se Maria Antonia è pronta, vogliamo ascoltarla insieme? Ancora non è pronta, allora io faccio un altro giro insieme ai miei ospiti con Fra Ezio, dunque anche questo, come dicevamo, questo calendario che ci sta portando verso la festa di San Pio, in qualche maniera per voi studenti cappuccini è anche un ulteriore motivo in più di preparazione e di formazione verso poi gli obiettivi che ciascuno di voi ha nel corso della propria vita di consacrato, di religioso e poi anche di sacerdote per chi vuole. Certo, è un'esperienza che già da qualche anno a questa parte viviamo qui a San Giovanni Rotondo in preparazione proprio alla festa di Padre Pio. Dopo aver concluso quelle diverse esperienze estive che il nostro cammino formativo prevede, ecco una delle tappe San Giovanni Rotondo tra l'esperienza dell'infermeria e l'esperienza appunto dell'accoglienza e anche delle benedizioni all'interno del santuario per prepararci più intensamente a questa festa, a questa novena. Mi ha sempre colpito Fra Ezio, ecco perdonami anche questa sottolineatura personale, questo affiancare tante volte voi i giovani frati ai frati più anziani. In questi giorni ecco c'è una sinergia, quasi un osmosi ecco tra di voi, quasi una sorta di passaggio di consegne, passami un po' il concetto. Certo, diciamo sotto questo aspetto sì, è un po' anche quello che dice Francesco nella sua regola, no? Che i fratelli, soprattutto quelli più giovani, devono saper amare i fratelli più infermi con un amore materno, ecco. La regia mi dice che Maria Antonia è pronta, allora andiamo in diretta all'ufficio accoglienza Pellegrini, Maria Antonia, a te la linea. Eccoci qui Leonardo, ritorniamo sempre in diretta qui dalla chiesa a cielo aperto di Sampio all'ingresso dell'ufficio Pellegrinaggi, ormai l'ufficio Pellegrinaggi è diventata un'unica famiglia con Padre Pio TV, già nei mesi estivi siete stati alla nostra spalla, do il bentornato, il bentrovata Marianna Lops, buon pomeriggio Marianna. Grazie Maria Antonia, grazie a te e a tutti coloro che ci seguono attraverso Padre Pio TV, tutti i fedeli di Sampio. Allora ci stiamo preparando per questa veglia di preghiera che abbiamo ricordato quest'anno ancora, le norme anti-covid impongono che la veglia sia svolta appunto all'interno della chiesa di Sampio. Sarà appunto una veglia a numero chiuso e ci teniamo anche a far sapere magari per quanti pensano invece di poter entrare liberamente che purtroppo i numeri, i posti a disposizione sono già terminati. Eh sì, eh sì, anche quest'anno la veglia si svolgerà qui all'interno della chiesa di Sampio proprio per limitare il numero di persone che possono parteciparvi e di conseguenza è necessario prenotarsi, è stato necessario prenotarsi presso l'ufficio Pellegrinaggi. Ormai i pass diciamo sono terminati, pass a disposizione, però chi vuole comunque informare l'ufficio della propria presenza può sempre farlo telefonando allo 0882 417 500 proprio perché capita che alcuni all'ultimo momento possono disdire, avere dei contrattempi, quindi non essere presente e di conseguenza sarà nostra premura ricontattarli e fargli avere i pass necessari proprio per l'accesso alla veglia di Sampio. Per il resto ovviamente lo ricordiamo sempre, Padre Pio TV seguirà in diretta tutta la veglia di preghiera, la nostra diretta comincerà molto prima della veglia di preghiera come state già vedendo in questi pomeriggi ovvero alle 16 e 30 e poi vi accompagnerà per tutti i momenti di preghiera di questa notte, di questa lunga notte tanto attesa in cui appunto la famiglia di Padre Pio si riunisce in preghiera. Per invece partecipare alle funzioni del 23 giorno della festa, Marianna non è necessario prenotare, giusto? No, non è necessario prenotare per cui potranno accedere tutti i pellegrini che desiderano la celebrazione delle 11 o a quella pomeridiana senza prenotazione. Ovviamente una volta raggiunta la capienza si terminerà quindi l'ingresso all'interno della chiesa, però si pensa che tutti possano partecipare agevolmente alla messa del giorno seguente, quindi proprio per questo non è stato istituito nessun servizio di prenotazione per i posti a sedere. In ogni caso anche per chi ha prenotato già il suo posto per la veglia, ricordiamo che i biglietti si ritirano qui all'ufficio Pellegrinaggi. Qui all'ufficio Pellegrinaggi già da domani pomeriggio fino all'inizio della veglia è possibile prenotare i pass prenotati, quindi recatevi qui chi ha già prenotato, dando nome e cognome fornito durante la prenotazione potrà ritirare il biglietto a lui riservato. Allora noi ringraziamo davvero Marianna per queste informazioni preziose, invitiamo ovviamente a visitare il sito Convento Santuario Padre Pio dove ci sono tutti i contatti dell'ufficio Pellegrinaggi per chi insomma ha voglia di avere ulteriori informazioni. Lasciamo andare Marianna e Leonardo perché l'ufficio Pellegrinaggi in questi giorni ha davvero un gran da fare, quindi la saluto io per tutti voi, la ringrazio ancora una volta e restituisco a te la linea. Grazie a Pellegrinaggi che in questi giorni stanno svolgendo davvero un lavoro molto molto delicato e dunque vi invitiamo anche, questo è un appello rivolto ai nostri amici telespettatori a rimanere informati anche minuto per minuto potremmo dire così perché poi con la normativa emergenziale in atto ecco sono tante le cose che potrebbero cambiare e che comunque potrebbero in qualche maniera cambiare i piani rispetto a quelli già previsti in anticipo. Ovviamente noi siamo qui anche al vostro servizio. Tra un po' torno da te Alessio per chiederti anche qualcosa di più riguardo a come vi state preparando come servizio liturgico alla vita al momento della veglia di preghiera e nel frattempo vorrei insieme a voi riproporvi anche un momento come dicevo all'inizio saliente di quella che è stato di quello che è stato l'anno appena trascorso nel santuario di Padre Pio. Siamo agli inizi della pandemia ancora purtroppo non sapevamo cosa fosse il coronavirus, la malattia causata da questo virus ma già era ben più che chiara potremmo dire la necessità di preghiera di cui tutto il popolo, la popolazione mondiale avrebbe avuto necessità. E questa pandemia nel santuario di Padre Pio è stata inaugurata, passatemi il termine, con il crocifisso delle stimate che oggi in questo 20 settembre è davvero protagonista principale. Vediamo insieme questa clip storica. Carissimi fratelli e sorelle che siete uniti a noi spiritualmente da casa, noi crediamo nella forza della preghiera e questa sera vogliamo insieme invocare con fiducia la misericordia del Signore. Stiamo attraversando un momento particolare e difficile. Questa Quaresima non ci risparmia sacrifici e dolori concreti, rinunce, che toccano la sfera della nostra libertà e che alimentano molto spesso sentimenti di inquietudine, di angoscia e di paura. Il nostro cammino terreno in questo momento è incerto, ma noi portiamo nel cuore una speranza che si fonda sulla vittoria di Cristo, sul male e sulla morte. Meditiamo il cammino del Signore Gesù lungo la strada della croce e vogliamo farci portavoce questa sera del grido di tutta l'umanità sofferente e offrirgli le croci di tutti coloro che novelli cirenei in questo momento sono immersi nella prova, ammalati, parenti, operatori sanitari, governanti, amministratori pubblici, forze dell'ordine, volontari della protezione civile, operatori della comunicazione e quanti altri in trincea per difendere la salute pubblica. Accogliamo ora l'immagine del crocifisso, dinanzi al quale, pregando, il venerato San Pio da Pietrelcina, la mattina del 20 settembre 1918 ricevette il dono dell'estimmate. Grazie. 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 E' sembrava passata una vita da quel momento, a 13 marzo 2020, un anno e mezzo fa insomma, Sono stati momenti davvero difficili e complicati, abbiamo anche visto persone che purtroppo non ci sono più, il carissimo padre Marciano, poi vorrei anche fare a questo proposito una battuta con Fra Maurizio, ma ad Alessio voglio chiedere anche per voi, per il vostro gruppo che dall'altare trae la propria ragione di esistere, come è stato stare lontano dall'altare? E poi riprendiamo anche l'attualità, ecco, come vi state preparando a questa veglia di San Pio. Sì, è stato un periodo molto difficile, abbiamo un po' anche, grazie a questo periodo, riscoperto un po' il nostro servizio. Per la prima volta c'è stato detto di non partecipare alle sante messe e ci siamo sentiti orfani di quei momenti, orfani dell'altare, partecipavamo alle messe tramite la televisione. E appunto giravo una fotografia in quel periodo, quella del ministrante che guardava la messa comunque con la tunica e noi ci sentiamo un po' tutti quel ragazzino, perché ci siamo sentiti proprio orfani di Gesù, orfani di quell'altare che è la nostra quotidianità ormai, alcuni per pochi anni, alcuni per tanti anni. Però mettiamo da parte ora la tristezza, ecco, andiamo al concreto, all'oggi. Sì, oggi questa novena di Padre Pio è molto importante, anche perché è un po' la novena anche della ripartenza, devo dire. Stiamo rivedendo di nuovo le persone, tante persone in chiesa e nel santuario e questo ci fa molto piacere. Ci stiamo preparando a questo grande evento che sarà anche quest'anno la veglia di Padre Pio, che anche quest'anno sarà nella chiesa San Pio e quindi internamente, ma la prepariamo con la stessa energia, con la stessa voglia di fare, di queste grandi liturgie, perché la veglia di Padre Pio ogni anno è formata sempre da grandi liturgie, molto belle, molto toccanti. Si stanno alternando diversi incontri in sinergia con i frati, con Fra Pasquale Cianci, che è il nostro padre assistente, con Fra Michele Pio Lombardi, che è il nostro collaboratore. Ci stiamo incontrando, ci stiamo preparando per preparare questa grande veglia. E poi le messe del 23 settembre, che sono il giorno più importante per noi, per il servizio liturgico e per il santuario tutto. Siete pronti quindi? Quindi allora non possiamo che aspettare il 22 per vedervi all'opera. Fra Maurizio invece io, mentre rivedevo le immagini del 13 marzo del 2020, ripensavo alla circolare che tu hai scritto in occasione della morte di Fra Marciano Morra. Perché tu con un'espressione molto bella, che ricordo davvero in maniera molto nitida, hai detto che il coronavirus, il covid, ha colpito la carne viva della provincia. Non tanto nella prima ondata, quanto nella seconda, quella che è partita poi con i mesi autunnali dello scorso anno. Com'è stato anche per voi vivere questi momenti che vi hanno un po' messo da parte rispetto alle persone? Vorrei anche ricordare, e chiudo, che per la prima volta il santuario di Padre Pio è stato chiuso al pubblico. Non accadeva, credo, forse non è mai successo, corrava da memoria. Sì, sicuramente è stato qualcosa di inedito. Ed effettivamente la nostra provincia è stata toccata in diversi luoghi, ecco San Giovanni Rotondo, ma tante altre fraternità hanno dovuto vivere a più riprese anche momenti di isolamento, la perdita di alcuni confratelli e la preoccupazione per alcuni casi in modo specifico. Ricordo tutti ci siamo uniti in preghiera e grazie a Dio Padre Aldo ha superato quel momento così difficile per lui e per tutti quanti noi. Effettivamente la nostra fraternità è stata colpita, San Giovanni Rotondo poi in modo particolare. Devo dire che quella è stata comunque un'occasione importante per alcuni aspetti per la nostra fraternità. I nostri frati effettivamente hanno dovuto chiudere le porte, si sono ritrovati da soli all'interno di quelle mura, però ecco hanno avuto la capacità di essere vicini comunque ai pellegrini, alla gente, grazie anche a voi proprio a Padre Pio TV, alle tante iniziative che comunque si sono portate avanti. Ecco, e anche la vita fraterna diciamo ha trovato un'occasione per essere vissuta in maniera diversa. I frati erano da soli, i ritmi completamente diversi. È stato un momento per ritrovarsi e proprio come dicevi anche tra i giovani e gli anziani c'è stata una catena di aiuto reciproco, di solidarietà, di incoraggiamento. Ecco, i giovani magari svolgevano i servizi pratici, gli anziani erano quel sorriso, quell'incoraggiamento, quella spinta ad andare avanti anche in una situazione così particolare. Non vorrei essere frainteso fra Maurizio, ma probabilmente ecco quando qualcuno parla di opportunità che vengono dal coronavirus, anche per voi nel vivere la vita fraterna che tante volte ecco può sembrare un accessorio, ma è una componente fondamentale del vostro essere frati minori cappuccini. Ecco, lì si è amalgamato ancora di più questo senso di fraternità e di appartenenza, non trovi? Sì, ecco come dicevi tu non vogliamo nulla togliere alla gravità, alla bruttezza di quello che abbiamo vissuto, ma la fraternità di San Giovanni ha saputo sfruttare quel tempo vivendo momenti intensi di vita fraterna, interna, proprio perché appunto i frati non erano impegnati nelle tante attività che normalmente li vedono coinvolti. La vita fraterna ha avuto un altro respiro, ha avuto tempi dedicati in modo specifico a questo ed è servito ai nostri frati. Io purtroppo stravolgo un po' la scaletta, chiedo alla regia di seguirmi un po' a braccio perché vorrei far vedere se riusciamo le immagini a tutto schermo degli altri due momenti che abbiamo preparato, l'affidamento del sindaco che si è recato nella cripta di Padre Pio di Santa Maria delle Grazie, se riusciamo a far vedere anche le immagini a tutto schermo che possono ricordare, ecco io le vedo nello schermo gigante e ora le vedete anche voi, il sindaco che si è recato nella cripta di Santa Maria delle Grazie portando come atto di affidamento a Padre Pio proprio il gonfalone comunale che è quel segno che contraddistingue un po' la città, il crocifisso delle stimmate che era lì presente, ecco preparando anche un po' la puntata con Fran Maurizio dicevamo che il crocifisso delle stimmate è stato un grande protagonista, passateci anche il concetto di questa pandemia oggi soprattutto che ricordiamo la giornata della stimmatizzazione di Padre Pio e poi infine il momento della veglia dello scorso anno che per la prima volta appunto si è tenuta all'interno della chiesa di San Pio, questo è il momento introduttivo che è stato preseduto proprio da Fran Maurizio. Siamo in chiusura, voglio fare una battuta per chiudere con Fra Ezio che ormai si appresta all'ordinazione diaconale, ecco quali sono i tuoi sentimenti e cosa pensi di assorbire della spiritualità di Padre Pio in preparazione all'ordinazione sacerdotale? Bene, se c'è un aspetto che mi colpisce molto è l'aspetto del confessionale un pochettino quindi porto dentro di me questo desiderio grande che è il desiderio spesso confidando anche con alcuni fratelli il desiderio di morire in un confessionale per metterci a servizio della povera gente, questo è il desiderio che porto nel cuore poi tu citavi Padre Marciano, io vengo fuori da un'esperienza di mezzo secolo di Padre Marciano che ha vissuto a Gravino in Puglia quindi ho accolto lui come padre e anche molto della spiritualità che sicuramente mi vorrà insegnare adesso dal cielo Bene, io non so perché inevitabilmente il ricordo finisce sempre con Padre Marciano anche nelle altre puntate sarà un segno della provvidenza, comunque lo sentiamo presente e vivo nella nostra azione anche perché in questi giorni lui era sempre protagonista con le sue catechesi noi siamo giunti in conclusione di puntata, ci rivedremo nella seconda parte gli appuntamenti li conoscete tutti, il Santo Rosario, la Novena e la celebrazione eucaristica noi poi proseguiremo la seconda parte della nostra diretta io vorrei ringraziare davvero di cuore Fra Maurizio che abbiamo strappato ai suoi impegni di Ministro Provinciale grazie Fra Maurizio, speriamo di rivederci con più calma nei prossimi mesi con Fra Ezio ci rivedremo nelle prossime settimane, abbiamo già detto il programma dedicato ai Santi e con Alessio, li rivedrete coinvolti già da stasera stessa ma poi ancora più in particolare nei giorni della Veglia e della festa di Padre Pio a tutti voi una buona preghiera, ci rivediamo dopo la celebrazione eucaristica grazie a tutti